Eccoci qua ragazzi con Sandro Cane per il sociale mi è arrivato della roba ma purtroppo non ho la brugola adatta per montarla e perciò andiamo alla ricerca di una brugola in questa città in questa brutta città andiamo in cerca di una brugola ecco qua adesso vediamo un attimo di preciso il navigatore anzi andiamo nella zona poi spegneremo il video e cercherò col navigatore che è un mio amico sentite come cinguetano gli uccelli sentite come cinguetano gli uccelli come vedete però dai alla fine se uno ha un buon stipendio qua non è che faccia una brutta vita il problema è avere il buon stipendio è quello il problema è sempre la solita storia chi c'è il pane non c'è i denti e chi c'è i denti non c'è il pane sempre così butei noi andiamo avanti allora andiamo qua vedete come guidano bene mamma che puzzo butei se ne sei intasata una fogna qua è cascato c'era un triciclo che gli è cascato un triciclo di quelli a piedi che gli è cascato il rimorchio col tetto il baraccone che c'è dietro per coprire le persone della intemperia era una scena agghiacciante noi andiamo avanti sentiamo che bel cigolio spero come il cigolio sia cinguettino degli uccelli sia qualcosa di immancabile qua adesso andiamo a vedere dove sono sti cazzo di brugole perché hanno chiuso Wormats perché ha fatto il decapoli con la cina perciò il Wormats è stato chiuso era in parte un supermarket schifoso mia moglie ha detto che se mia moglie ha detto che è schifoso devo crederci perché quando ha detto della casa ha detto che ha trovato un'occasione una casa bella col balcone quell'altra col giardino addirittura roba da mangi tutte ecco la buca come fare il safari ma siamo su una strada un po' agghiacciante la situazione andiamo di qui perché c'è il blocco intestinale eccola qua un'altra buca c'è il cigolo anche sul piano una roba assurda mi ha portato a tirare tutto ma è proprio un problema di montaggio secondo me si sono dimenticati o hanno tirato della roba interna o vado di svitogli o non lo so anche perché sembra che si stia staccando qualcosa guarda che merda anche per attraversare la strada ok siamo quasi arrivati la strada perciò adesso devo lasciarvi e poi continuerò il video dopo ok ci vediamo dopo ciao ciao